Dunque le pagine sportive ripartendo dal Corriere dell'Umbria. L'Alcalcio in primo piano, dai Grifo, rialzati subito. Venerdì c'è il Pisa, Alcuri, il centrocampista falzerano guida la riscossa. Vogliamo far crescere ancora l'entusiasmo. La sconfitta di Empoli dice non deve toglierci le convinzioni. Iemmello e Marconi, incrocio tra Bomber, il negrazzurro guida più uno sul bianco-rosso. Una sfida nella sfida, quella che si presenta al Curi. E poi da Terni, Angelo e Demone, è la ternana dei due Entoni. Parliamo di Iannarilli e Partipilo, hanno fatto la differenza a Francavilla. Il portiere dice mi piace essere utile nei momenti del bisogno. Intanto per il notiziario, Proietti. Oggi il risponso definitivo, a seconda del risultato, si ipotizzano tempi di recupero variabili tra i 30 e i 60 giorni. Restiamo in Serie C, cambiamo girone, andiamo a Gubbio Benedetti, il figlio, il prodigo. Il Gubbio ha ritrovato il suo centrocampista dai margini della Rosa a perno della Mediana. E poi il Memorial, il pianello si aggiudica il Mario Marchi, Corombella e Sant'Egidio vanno K.O. Il focus sui calciatori dell'eccellenza, ancora un Antonioni, il Sanzisto fa festa. Parliamo di questo ragazzo che l'esterno che è andato a segno nel successo di Darni, dice è stata un'esperienza fantastica. Dopo il marcianese Mundial nell'82 si fa largo un altro gioiellino. Andiamo a parlare di Serie D, andiamo a Foligno. Si rivede Turchi, il tempo non è passato. L'ex bomber argentino Juan Martin, in città, in visita, in vista del tutto cuoio, dice ho sentito ancora il calore dei tifosi. E poi per il Futsal di Serie C femminile, ecco il Colle Santo Perugia-Motori, Sargenti dice non ci poniamo limiti. L'appuntamento con il grande volley è a Gubbio, spirito di squadra, derby in salsa Umbra, sfide tra campioni. In panchina che duelli tra il Folignate-Santarelli, l'Orvietano-Mencarelli, il Perugino-Bovari. In campo invece una parata di stelle e Gonu e Silla guidano la folta truppa delle nazionali azzurre. Ci sono anche le medagliate serbe. L'appuntamento sabato a Gubbio alle ore 15. E per il moto, enduro a Camerino, applausi a Lorenzo e Roberto Bazzurri. Per chiudere poi con il ciclismo, handbike, gran finale ad Assisi per la decima edizione, che ha visto il trionfo di Giagnoni, che ha tagliato per primo il traguardo davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Andiamo al messaggero, Grifo le favorite sono altre. Parla Marcello Falzerano, sceglie la strada dell'umiltà. Possiamo vincere e perdere con tutte. Ora subito per noi il riscatto. E poi andiamo a Terni. Giannarilli nel segno del 24. Il portiere è diventato uno dei giocatori insostituibili ed ha un suo numero ricorrente. Dai Guanti a Cobrayan. Nelle primate in classifica c'è decisamente la sua mano. Dice abbiamo imparato a reagire nei momenti di difficoltà. A Narnia, la festa dello sport, spunta il ring e coi guantoni anche una giovane disabile, Maria Giulia, che si è esibita davanti a decine di persone. Andiamo a Foligno. Turchi sarà al blasone. Forza Falchi. Sabato l'indimenticato bomber argentino sarà sugli spalti a tifare Foligno. In eccellenza la grande festa della Ducato, 500 atleti e tante ambizioni. E poi per il karate, Annalisa Casini e Ogubina è bronzo ai mondiali di karate. Andiamo alla nazione con la quale concludiamo, ovviamente con il suo inserto sportivo. Il Grifo sfida il Pisa dei record in trasferta. Toscani imbattuti da 13 partite fuori casa, ma i biancorossi di Oddo alcuni vanno forti. In campo Iemmello c'è, Bonaiuto e Sgarbi lavorano ancora a parte. E poi da Terni, la Ternana, eccola qua, si prepara al big match. Proietti out, Salzano recupera. Foligno, Bagatini Marotti, gioia da derby, l'entusiasmo del centrale brasiliano. E poi il volley, la Bartocini cerca la rivincita. Oggi alle 16.30 sfida a Scandici. Ancora il calcio in Serie C, il Gubbio adesso serve la svolta. Il DS Pannacci dice che è un momento delicato. Mentre per il basket Serie C Silver, Fratton Bertide, bronzo in trasferta. Era l'ultima notizia per il nostro appuntamento con l'informazione. Vi ricordo, alle 19.30 riparte la striscia dei Tg Serali. Grazie per averci seguito, buona giornata. Grazie per aver guardato il nostro corso. Grazie per aver guardato il nostro corso.